A San Valentino Torio la rassegna Agrodoc dedicata ai grandi protagonisti del teatro e del cinema napoletano. Non poteva mancare Totò, riletto e reinterpretato da Alessandro Preziosi. Il servizio è di Michele Giordano. Alessandro Preziosi in scena a San Valentino Torio nel Salernitano racconta il principe della risata in un recital dal titolo Totò oltre la maschera. Uno spettacolo con canzoni, poesie e i suoi scritti che fanno emergere la dimensione privata di Totò. Densa di umanità, generosità e malinconia in contrapposizione all'immagine artistica. Totò si racconta attraverso uno sbobinamento dell'intervista fatta da Oriana Fallaci al principe Antonio De Cultis il quale si confessa apertamente e farlo in una piazza così diciamo che è il contorno di Napoli questo mondo nel quale sicuramente Totò avrà tratto spunto da tutti i suoi lavori e è entusiasmante. Lo spettacolo nell'ambito della rassegna AgroDoc, direzione artistica di Francesco Comunale.